a federico pellegrino media day della fisi peraltro te il numero quanto ma i primi anni non c'era proprio media day non si chiamava così fisi in tour iniziava a chiamarsi così ricordo uno stadio olimpico di torino che ero veramente giovane in esperto e sprecavo tante energie nell'arrabbiarmi per l'organizzazione che magari non era eccelsa adesso negli anni la federazione migliorata molto in questo e sono tranquillo e felice di partecipare a questo momento che è un momento molto importante per noi fedelico come sta andando questa preparazione ha avuto anche i riscontri lega la gara gp sport full ha avuto anche il test sui 3.000 metri dove moce questa volta riuscita anche a chiudere a chiudere in testa ecco che riscontri ha avuto a più o meno sono lì dove ero gli anni scorsi anzi con qualche piccolo miglioramento e che dire aspetto la neve è sempre poi lì che si tirano le somme però la preparazione è andata bene ho perso qualcosa in termini di volume in primavera per qualche acciacco qualcosina anche a metà l'estate per un piccolo infortunio alla schiena ma adesso come adesso sono a regime da 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 più di un mese sto portando a casa tutto il lavoro programmato quindi mi auguro di continuare così nel prossimo periodo e essere pronto poi a fine novembre quant'è cambiata per te la preparazione estiva rispetto al passato proprio nel modo in cui la stai vivendo ora che sei papà ma un po è cambiata magari le giornate sono impostate in maniera un po diversa perché il tempo libero che a disposizione quando il piccolo è sveglio cerco di passarlo con lui e rispetto ai compagni di squadra sto meno tempo in in raduno ma già anche l'anno scorso con greta incinta avevo qualche licenza all'inizio del raduno a fine di raduno per rientrare a casa sicuramente allenarsi tanto e bene a casa non è come raduno un po più complicato però con l'organizzazione giusta si può trovare un giusto equilibrio tra lavoro e famiglia e con l'esperienza soprattutto portare a casa un lavoro proficuo si è sempre detto dietro un grande uomo c'è una grande donna nel tuo caso è così assolutamente è stata una bella scelta di comune accordo quella di ampliare la famiglia e andare avanti questo verso questa nuova avventura è stato un sogno che abbiamo realizzato che avevamo nel cassetto da tanti anni quando ci siamo sentiti pronti arrivato e adesso devo dire che è una bravissima mamma l'ultima cosa tornando alle gare cosa pensi della situazione riguardante jones clavo insomma questo suo mancato accordo con la federazione dici calafina ruca lo vedremo voi vi giornalisti vi divertite perché almeno avete qualcosa in più da scrivere soprattutto al nord ma è la classica di atriba e quindi siamo sempre lì